Benvenuti, cari follower! Un inverno molto precoce in Italia, con pioggia e neve per la prima volta in questa stagione. Ma prima di entrare nei dettagli, non dimenticate di sostenerci prima ammirando questo video. Lavoriamo molto duramente per condividere questi video utili con voi, quindi non siate avari con il vostro supporto. Grazie. Quindi, come vedi sulla mappa di fronte a te, una tempesta molto forte che porterà pioggia e neve molto forti colpirà duramente l'Italia dal 17 ottobre fino almeno al 23 ottobre 2023. L'inizio, come ho detto, è martedì 17 ottobre. Dove colpirà questa tempesta nelle regioni settentrionali e centrali dell'Italia, soprattutto con grandi quantità di pioggia rosso scuro, come potete vedere nella foto davanti a voi? Con il rischio di inondazioni, questa tempesta raggiungerà gradualmente anche le regioni meridionali. Ma la parte del leone delle piogge cadrà nelle regioni settentrionali e centrali, che riceverà ottime quantità di pioggia ed è anche possibile che si assista a nevicate per la prima volta in questa stagione in alta quota alpina, con uno spessore di circa 30 centimetri, con un'ondata di freddo molto severa e un inverno vero e molto precoce in Italia. Restate sintonizzati per maggiori dettagli in seguito. Alla fine possiate rimanere in buona salute.